Su per la scala. Siamo arrivati alla pagina 9 del primo libro. Allora, prima cosa, in questo brano facciamo la conoscenza con una nota nuova, una nota bianca con un puntino accanto. Questa nota non l'avevamo trovata finora nei primi brani suonati. Questa nota bianca con il puntino deve contare, cioè deve durare nel tempo, per tre numeri. Questo vuol dire che noi terremo il tasto premuto finché non avremo contato, a voce o mentalmente, fino a tre. È una novità, fino all'ultimo brano suonato, una nota bianca con la gamba ci diceva di contare fino a due soltanto. Ecco, ora questo puntino ci dice che dobbiamo contare fino a tre. Infatti, questo brano prevede che noi si conti fino a tre, non più fino a quattro come quelli che abbiamo provato fino adesso, ma soltanto fino a tre. Qui abbiamo, infatti, nella prima battuta tre note. Ciascuna di queste note vale un numero, quindi io conterò uno, due, tre. Contando uno suonerò questa nota, contando due suonerò questa, contando tre suonerò quest'altra. Vi ricordo che non dobbiamo farci confondere da questi numeri, perché questi numeri in alto oppure in basso ci suggeriscono quali sono le dita da usare per suonare queste note. Il libro mi consiglia, suona il do con il pollice, suona il re con l'indice, suona il mi con il dito medio, suona il fa con il dito anulare. Stessa cosa per la mano sinistra, quando sarà poi il suo turno. Quindi questi numeri non hanno niente a che vedere con i numeri che io conto mentalmente per far durare i suoni delle note di più o di meno. Poi abbiamo per ogni mano quattro note stavolta. La mano destra ha le note do re mi fa, la mano sinistra do si la sol. Quindi i due pollici, come sempre, stanno insieme appoggiati al do centrale. Inizio. Il primo e il secondo rigo sono perfettamente uguali. Suonerò quindi il primo rigo contando ad alta voce e il secondo rigo in silenzio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.